dove si può vedere oggi iapicchino la finale nel salto in lungo a larissa iapiccino e la sfida finale larissa iapiccino e la sfida finale oggi la giovane atleta larissa iapiccino figlia dell'ex ginasta di classe mondiale fiona may porterà le sue abilità nel salto sotto i riflettori nelle olimpiadi del 2024 a parigi si svolgerà la finale femminile nel salto in lungo e iapiccino è considerata una delle favorite questo evento promette di essere uno spettacolo emozionante per gli appassionati di sport le olimpiadi non sono solo un palcoscenico per i migliori atleti del mondo ma anche un luogo pieno di emozioni e storie larissa iapiccino ha già attirato l'attenzione in passato con le sue performance impressionanti in particolare la sua vittoria ai campionati del mondo uenti e i risultati costantemente forti nelle competizioni internazionali dimostrano il suo grande potenziale è considerata una delle giovani atlete più promettenti nel salto in lungo negli ultimi anni iapiccino ha lavorato duramente su se stessa per prepararsi a questo evento l'intensa preparazione e le alte aspettative potrebbero generare pressione per molti tuttavia è stato riferito che l'atleta è molto concentrata e si focalizza sulla sua tecnica e sull'analisi delle competizioni il loro obiettivo è fornire prestazioni ottimali senza farsi distrarre dalle circostanze esterne l'importanza del salto in lungo per iapiccino va oltre il successo sportivo sua madre fiona may che è stata anch'essa campionessa olimpica e mondiale ha sempre ispirato e sostenuto larissa larissa ha dichiarato di aver beneficiato delle esperienze e dei valori di sua madre il che l'ha aiutata a progredire come atleta di legame tra madre e figlia rafforza anche il modo di affrontare la pressione che accompagna competizioni di così alto livello per i fan che vogliono seguire la finale del salto in lungo femminile ci sono diverse opzioni per vedere larissa iapicino dal vivo oggi la competizione si svolgerà allo stade de france dove si prevedono migliaia di spettatori ecco il testo tradotto in italiano inoltre diversi servizi di streaming e emittenti televisive offrono la possibilità di trasmettere l'evento in diretta questo consente ai fan appassionati di non perdere alcun dettaglio della competizione la finale del salto in lungo può portare a imprevisti per questo motivo gli atleti sono spesso sotto enorme pressione l'entusiasmo del pubblico e la competizione tra gli atleti aumentano la tensione durante la gara molti analisti sportivi si aspettano che larissa iapicino non solo darà il massimo ma avrà anche la possibilità di vincere medaglie in sintesi si può dire che oggi è un giorno di grande importanza per larissa iapicino la sua determinazione a sfruttare appieno il proprio potenziale è sostenuta non solo da sua madre ma anche da una fedele comunità di sostenitori resta da vedere come si svilupperà la competizione ma le aspettative sono alte e gli occhi del mondo sportivo sono puntati sulla talentuosa atleta sportivo sono puntati sportivo sono puntati sportivo sono puntati sportivo sono puntati